C'è bisogno di un'informazione libera, plurale, indipendente, autonoma e il Sud ha bisogno di questo tipo di informazione. C'è una parte di informazione del Sud che è molto romano-centrica o centro-nordista nella proprietà, che chiaramente condiziona anche i giornalisti. Invece una libera informazione può molto aiutare una proposta politica con la P maiuscola di questo tipo. Istituzioni, giornalisti, imprenditori ed eccellenze napoletane, con l'assegnazione del primo premio Ambasciatori del Sole, sono stati fra i protagonisti della serata organizzata per celebrare i dieci anni del quotidiano di informazione online Napoli Village, un punto di riferimento nel panorama non solo cittadino, con tre milioni di pagine visualizzate nel 2017 ed un nuovo corso che sta per cominciare con il terzo restyling. Un'occasione anche per discutere di temi attuali, come il ruolo dell'informazione pubblica e dei quotidiani online, il rispetto delle fonti ed il contrasto alle fake news. Il ruolo dell'informazione pubblica in campagna, dei siti internet, dei quotidiani online è fondamentale affinché questa regione possa ripartire, possa ritrovare quel senso di unità, quel senso di verità che soltanto i giornalisti che tutti i giorni lavorano sul territorio, così come facciamo noi di Napoli Village, possono dare al cittadino, possono dare all'utente. In dieci anni abbiamo cercato di raccontare Napoli, la campania, lo sport, la cronaca, la moda, passando per i grandi eventi fino agli eventi macabri della Camorra, dell'emergenza rifiuti. Le opportunità dell'informazione digitale e dei social sono straordinarie, poi chiaramente come ogni strumento potente, diffusivo, orizzontale che arriva ovunque, ci sono anche i rischi, le fake news le vediamo ogni giorno. Poi qualche volta, io spero che qualche notizia possa essere una fake news, invece non lo è, quindi ci sta anche un po' questo aspetto. Allora, io utilizzo molto i social, quindi il mezzo della comunicazione attraverso i social è stato anche una delle ragioni delle mie vittorie politiche, ma non devono mai sostituire i canali informativi anche quelli tradizionali. Non bisogna stare solamente lì nella comunicazione.